caricano i condensatori qualsiasi regola l'impulso e i joule da un millisecondo al massimo di 8 adesso mettiamo A1 qua si regola il contrasto facciamo la prova di saldatura attendere facciamo due millisecondi proviamo a fare quattro adesso prova di tenuta vedo bene qua resta pezzi e questo è sporco quindi attacca meno spegnimento fine